haidi baci è tornata a parlare dopo l'abbandono della casa del grande fratello ospite a verissimo ha detto sono contenta non tornerei indietro è stata un'esperienza bellissima ma mi sentirei un pesce fuor d'acqua nel tornare non volevo questo epilogo ma è bella l'imprevedibilità haidi come aveva già rivelato ha spiegato di essere uscita dalla casa perché preoccupata per sua madre ora sta meglio la situazione è stabile ma ci sono dei rimasugli perché ha avuto diversi attacchi di panico perché ha visto cose in me che non andavano si era resa conto che c'era qualcosa che non andava io ero in difficoltà la turbata il fatto di vedermi piangere e non vedere la solita haidi che riesce a gestire determinate cose e respingere situazioni che non ha sul rapporto con i propri genitori io ho un rapporto bellissimo con i miei ci capiamo io avevo capito subito che c'era qualcosa che non andava era la prima volta che vedevo mio padre così provato è tutt'altro che un padre padrone non hanno capito che la scelta è stata mia mio padre mi ha semplicemente avvisato una situazione che dentro di me già sapevo la scelta è stata mia hanno associato la mia uscita a lui senza papà non sarei mai uscita ma l'ho fatto per mia madre che non stava bene non potevo ri e su massimiliano varrese io all'inizio ero incuriosita da massimiliano mi piaceva affascinante uomo serio e saggio le mie parole erano riferite a un primo impatto ma poi la situazione è sgravata innamorarsi in tre settimane è impossibile io molte volte lo volevo un rapporto civile e di convivenza poi è diventata ossessione e non ho saputo gestirla non c'era più libertà poi in me è scattato un senso di colpa e di protezione per la sua immagine ho cercato di addolcire i toni ma era impossibile o voleva intimità o il nulla io non ero innamorata sembrava gli sguardi c'erano ma la mia era solo curiosità o richiesta di complicità ma il suo atteggiamento era eccessivamente oppressivo